In primo piano i contagi da Covid-19 in Abruzzo, dove rispetto a ieri si registrano 533 nuovi casi positivi di persone di età compresa tra 4 mesi e 97 anni, su 3.367 tamponi molecolari e 21.004 test antigenici effettuati. Sono 12 le persone decedute, mentre il tasso di positività è del 2,2%. Aumenta il numero degli attualmente positivi sia i pazienti ricoverati in ospedale che quelli in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Fa discutere l'eventuale riapertura delle scuole in alcuni centri abruzzesi, per alcuni troppo rischiosa e visto che la variante inglese al SARS-CoV-2 è particolarmente aggressiva nei confronti dei più giovani. Oggi pomeriggio si è svolta in videoconferenza una riunione coordinata dalla prefettura di Pescara e è stata assunta una decisione che è quella di chiudere fino al 28 febbraio le scuole, ad eccezione delle materne, tutte le scuole in quattro comuni, Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Spoltore. Ma per tutti i particolari ci colleghiamo con Fabio Lussoso che vedo in compagnia del sindaco di Pescara, Carlo Masci. Fabio, a te la linea. Sì, grazie Gigliola. Buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo presso l'ufficio del sindaco di Pescara, Carlo Masci, proprio perché nel pomeriggio, convocata dal prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, c'è stata una riunione tecnica per definire le linee da intraprendere per garantire la sicurezza e scongiurare il diffondersi del Covid. Come noto, questo virus, soprattutto la variante inglese, sta destando enorme preoccupazione. Signor sindaco, innanzitutto una domanda d'obbligo proprio al termine di questa riunione che c'è stata oggi. Scuole chiuse, fino a quando? Fino al 28, nel senso che ci allineeremo alla zona rossa regionale ed è importante che si faccia, ce lo hanno detto i medici della ASL, hanno sottolineato che in questo momento la provincia di Pescara è aggredita dal virus in maniera significativa, che le scuole, per una questione di cautela, di prudenza, devono rimanere con la didattica a distanza. Praticamente viene confermato il provvedimento che io ho emesso la settimana scorsa, quando eravamo ancora in zona gialla e oggi il provvedimento riguarderà anche gli altri comuni. Alla riunione c'erano il sindaco di Città Sant'Angelo, il vice sindaco di Montesilvano, il sindaco di Spoltore. Anche loro adotteranno un provvedimento di didattica a distanza per le scuole dall'infanzia alla media fino al 28 di febbraio. La situazione è delicatissima, l'hanno sottolineato in maniera puntuale i medici della ASL, il dottor Parruti, il dottor Poridoro, stanno vedendo che questa variante inglese sta colpendo la nostra provincia e quella di Chieti in maniera forte, colpisce a tutte le età, c'è un'espansione notevole, dobbiamo fermarla e quindi la scelta di sospenderla didattica in presenza anche nelle scuole di infanzia, elementari e medie diventa importantissima perché la scuola può essere un veicolo di espansione del contagio, può esserlo sia in entrata che in uscita, nel senso che i bambini che possono contagiarsi a scuola possono portare il contagio fuori e i bambini contagiati a casa possono portarlo, questo contagio dentro le scuole. Questa misura prudenziale l'ASL ce l'ha chiesta espressamente, ha confermato che la scelta che il Comune di Pescara aveva fatto era una scelta giusta, anticipatoria e prudenziale. Oggi questa scelta l'ASL ha chiesto di farla anche agli altri sindaci che ovviamente hanno preso spunto dalle indicazioni dell'ASL per muoversi di conseguenza e quindi anche i sindaci degli altri Comuni faranno un provvedimento di sospensione della didattica in presenza fino al 28 come zona rossa della provincia di Pescara. Presidente, all'incontro anche la dirigente dell'ufficio scolastico Maristella Fortunato è stato ribadito che da questo provvedimento sono esclusi gli asili nido. Sì, sono esclusi gli asili nido perché i medici hanno confermato che in quella fascia di età non c'è nessuna possibilità di contagio, comunque sono contagi assolutamente irrilevanti. Invece anche la dottoressa Maristella Fortunato ha ribadito che questa scelta è necessario farla e quindi la scuola ovviamente anche a fatica ma si allinerà a questa posizione perché oggi la salute dei bambini, dei genitori, dei nonni è più importante di qualsiasi altra cosa. Ringraziamo il sindaco di Pescara Carlo Masci, ribadiamo che il prefetto di Pescara ha sottolineato che nella giornata di domani, martedì grasso, martedì di carnevale saranno intensificati i controlli proprio per scongiurare il diffondersi del virus. Dal Comune di Pescara è tutto, ringrazio Andrea Berardinelli per il collegamento. A te la linea.